benvenuti ad un nuovo appuntamento di toscana cine news e in questa puntata vi facciamo un resoconto di quello che è stato uno degli ospiti di punta del festival indiano river to river e vi raccontiamo di due iniziative che arriveranno i prossimi giorni a firenze una dedicata a tutta la famiglia e una che ci fa conoscere da vicino chi in toscana fa il cinema e partiamo da hans almeta questo regista è appunto uno dei registi di punta il nuovo cinema indiano e ha portato il 12 dicembre sera in chiusura del festival il film omerta il film racconta della figura di un terrorista omar sheik quindi è ispirato a una storia vera un terrorista che nel 94 ha rapito dei turisti inglesi in india e poi è stato accusato cioè identificato come responsabile dell'omicidio della giornalista del wall street journal daniel pierle e per questo è stato condannato a morte in pakistan e il film vuole in qualche modo ha fermato il regista qui a firenze rompere quel muro di omertà che vigia ancora su un tema così scottante e dalle tragiche conseguenze come quello del terrorismo sentiamo che cosa ha detto si parla di un silenzio il silenzio col quale o il modo in cui si affronta il terrorismo che non è cercando di capire quindi la comprensione ma piuttosto di far fronte alla violenza con altra violenza io credo che gli stati vogliano mantenere quello che è l'equilibrio del potere e si io lo stato e lo stato è fortemente implicato nel creare questa situazione di omertà anche nel mondo però vorrei fare un parallelo con un film che ho fatto nel 2012 shahid dove appunto il personaggio il protagonista era un giovane indiano di mumbai che dopo aver abbracciato la violenza fondamentalista si rende conto che non è quella la risposta e allora passa dall'altra parte cioè decide di lottare fare la lotta al terrorismo all'interno del sistema e quindi diventa un sostenitore avvocato dei diritti umani purtroppo poi viene ucciso ma la sua lotta si svolge all'interno del sistema i terroristi sono persone che invece lottano contro il sistema non fanno parte del sistema e diciamo che la storia di omar è un po il contrapunto o l'opposto di quella di shahid e per questo più che protagonista omar lo chiamerei antagonista un personaggio che se vedrete il film riempie di rabbia è una storia scomoda che l'ho fatta apposta scomoda e disturbante perché vuole in qualche modo scuoterci tutti facci uscire un po da posizioni comode dalla nostra comfort zone come si suol dire per capire che il mondo intero è fratturato è scosso da questi eventi terroristici e dobbiamo ancora capire come riuscire a farvi fronte e non è con alta violenza ma cercando magari una migliore comprensione di entrambe le parti reciproca o un po di empatia dopo il cinema di impegno sociale portato che firenze da river to river passiamo ad un argomento decisamente più piacevole con il cinema rivolto a tutta la famiglia si tratta del cinema in famiglia un'iniziativa che si tiene al cinema la compagnia è organizzato dall'associazione coco spazio costanza è così strutturato mentre i genitori guardano un film in sala al quale segue un dibattito alla presenza di esperti esponenti della società civile giornalisti i figli quindi i bambini possono svolgere in una saletta dedicata un laboratorio ludico didattico con operatori specializzati messi a disposizione proprio da coco spazio costanza ebbene dopo l'evento inaugurale del 3 dicembre domenica 17 dicembre si parlerà di genitorialità con un film in sala che è la mia vita zucchina quindi animazione anche per i grandi e con il film per i piccoli ci cogne in missione appunto come annunciavo il tema qui è l'adozione anche per sensibilizzare le famiglie all'adozione una cosa che purtroppo ci dicono essere un po in calo almeno questo hanno detto gli organizzatori dell'iniziativa e che invece è un gesto di grande umanità che migliora la vita sia di chi adotta sia da parte di chi viene adottato è proprio questo il tema di cui ci parla michela della porta dell'associazione coco spazio costanza parallelamente quindi c'è una proiezione di un film documentario dedicato all'adulto e in una sala adiacente un cartone animato guidato però da due educatori professionisti di cinema che cercano appunto di interpretare quel linguaggio del cartone per trarne una morale che possa essere significativa poi nella quotidianità del bambino. Noi avremo una proiezione appunto dedicata agli adulti la mia vita da zucchina che di fatti è un cartone ma come spero avrete modo di vedere insomma e come alcuni già sanno è un cartone che parte da un'esperienza di volontariato presso strutture di accoglienza in Francia e che riesce davvero attraverso un linguaggio molto semplice a parlare di una tragedia come quella dell'abbandono. Parallelamente il laboratorio verrà invece guidato da Cicogne in missione che è un cartone che appunto parla di come si può essere diversi ma ci si può sentire tanto simili a chi ci accoglie. L'adozione è un po' questo, parte da due mondi diversi, parte da due vite diverse che si uniscono insieme e costruiscono un futuro, una realtà, un nucleo familiare. Abbiamo scelto questa tematica perché di fondo a fronte di un aumento notevole di minori abbandonati tanto in Italia quanto all'estero c'è un calo drastico delle adozioni internazionali. Ospite sarà appunto Amici dei Bambini che è un ente autorizzato per le adozioni internazionali che ha più di 30 anni di storia tanto in Italia quanto nel mondo e che di fatti lotta da anni per prevenire l'abbandono ma anche per trovare degli strumenti che in qualche modo possano superarlo. Mentre nelle altre progettualità dei finanziamenti adeguati una collaborazione tra più ONG o più realtà pubbliche e territoriali può essere la risposta, in questo caso l'unica risposta è la famiglia per cui l'intento è proprio quello di sensibilizzare, avvicinare sempre più famiglie all'accoglienza che è una risposta necessaria e adeguata. E dopo il cinema dedicato a tutta la famiglia ci occupiamo adesso di chi nella regione toscana fa cinema. Nella nostra regione vivono infatti persone che lavorano in questo settore come registi, attori, produttori e distributori. Lo scorso marzo sotto legida di CNA Toscana si è costituito proprio il consorzio CNA Cinema e Audiovisivo della Toscana. Adesso questo consorzio presenta una prima iniziativa che si chiama Toscana Movie Night. A curarla è il regista Samuele Rossi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Innanzitutto ti chiedo che cos'è CNA Cinema e Audiovisivo della Toscana? CNA Cinema e Audiovisivo della Toscana è un network di imprenditori, di produttori cinematografici che hanno deciso di unirsi, di mettere insieme le proprie energie, le proprie forze, la propria visione per due motivi fondamentalmente. Uno tutelare quanto di buono ed è molto che viene fatto per il cinema e nel cinema toscano ovviamente con una forte vocazione nazionale e internazionale e dall'altro quello di creare delle strutture forti che possono valorizzare e promuovere tutta la produzione che nasce in Toscana e ovviamente poi affronta il mercato estero. Ecco, è questo il senso. Unirsi perché ci siamo resi conto che in Toscana c'erano delle energie importanti che potevano unirsi e potevano scommettere sul proprio futuro per creare ancora di più un indotto che può essere molto decisivo, molto importante per tutto il mercato economico e finanziario della Toscana. Ecco, adesso questa rete di imprenditori di CNA Cinema e Audiovisivo della Toscana organizza Toscana Movie Night. Ci vuoi spiegare? Sì, fra gli obiettivi che ci siamo dati ovviamente uno dei più importanti era quello di valorizzare e promuovere il cinema fatto e pensato in Toscana. Una di cui sono stato responsabile una delle idee, dei progetti a cui abbiamo subito puntato era ed è la costruzione di programmi di situazioni che potessero in qualche modo valorizzare il cinema che noi all'interno del network che in generale le imprese toscane potevano fare e stanno facendo. Abbiamo ideato una rassegna che appunto si chiama Toscana Movie Nights. Sono sette incontri che partiranno a gennaio 2018 e finiranno a febbraio che hanno come primo obiettivo quello di organizzare delle serate dal forte impatto emotivo, dal forte impatto artistico che possono coinvolgere in primissi prodotti, film che vengono pensati, fatti realizzati in Toscana e dall'altro di legarli a dibattiti, a confronti, eventi speciali che possono ovviamente portare l'attenzione su quello che è il cinema toscano. Vogliamo fare qualche esempio? Che film ci saranno a Toscana Movie Nights? Allora alcuni film che abbiamo selezionato, importanti produzioni come Quest'Italia suona il jazz di Solaria Film, Emanuele Nespeca, uno dei produttori toscani più importanti nel panorama nazionale, che ha deciso di raccontare la creazione di un'orchestra giovanile del jazz. Nella stessa serata ci sarà una piccola preview di un film documentario molto atteso, Stones in Lucca, di Odo Movies, di Cristina Puccinelli che racconta l'esperienza, l'impatto dei Rolling Stones sul microcosmo lucchese. Ci sarà il mio film, Indro, l'uomo che scrive sull'acqua, sulla vita di Montanelli in una serata molto importante dedicata al giornalismo, alle nuove frontiere della comunicazione. Ci sarà gli Alchimisti del Muto, di un'altra produzione toscana molto importante Mood Film di Tommaso Enrichi, una serata totalmente dedicata al cinema insieme a video sugli effetti speciali fatti dagli Extreme Videos una società totalmente evocata agli effetti speciali insieme a uno spazio tester per la realtà virtuale per verificare quanto il cinema in generale, ovviamente verso cui il cinema sta andando, la direzione che il cinema sta prendendo e allo stesso tempo per far vedere quanto del cinema del futuro è in realtà in Toscana e viene fatto in Toscana. Altri esempi sono Circle, una serata totalmente dedicata al mondo intrigante del cinema di Kiné o una serata straordinaria dove ci sarà l'anteprima fiorentina del pluripremiato Auto Change the World che è ovviamente un documentario internazionale prodotto è una coproduzione internazionale Canada-Gran Bretagna ma che è distribuito per la gran parte del mondo da una società fiorentina, Berta Film di Stefano Musole e questo anche per darci l'idea che il cinema in Toscana non viene solo prodotto, realizzato o fatto ma viene anche distribuito e questo è anche un altro premio che va al nostro network. Quindi l'invito per tutti quanti è venire al Cinema Compagnia e seguire le tante iniziative in programma. La prossima il 17 dicembre il Cinema in Famiglia e poi gli appuntamenti di Toscana Movie Night e con queste anticipazioni vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.